Buongiorno a tutti da spyproject.com, oggi vi presento il microregistratore dell'Acustec, una versione professionale con scatola in alluminio, inserto per scaricare i dati registrati, quindi non viene rilevato dai rilevatori di giunzione non lineari, per cui non è rintracciabile. Poi dal suo interno abbiamo lo spazio per l'inserimento di una batteria di questa tipologia, quindi inseriremo la batteria al suo interno e da quel momento avremo la possibilità di registrare tutto l'audio nel giro di 10-15 metri di raggio. Ecco, lo richiudiamo. Il registratore è molto semplice da utilizzare perché viene configurato, come nel video che vedremo poco dopo, viene configurato mediante il PC, per cui sarà solamente necessario, una volta che ho effettuato le impostazioni, premere solamente il tasto per avviare la registrazione. E una volta per rimuoverlo sarà necessario premere di nuovo il tasto e vediamo più avanti come sentire le registrazioni. Buongiorno a tutti da spyproject.com Questa è la continuazione del video dove vi mostreremo come estrarre le registrazioni all'interno del microregistratore. Allora, aprite il software in dotazione, avrete questa schermata. Allora, dalla schermata potrete vedere che ha registrato, abbiamo fatto una prova, due audio. Qui avremo lo spettro dell'audio e qui avremo tutte le impostazioni. Quindi possiamo vedere, mandarlo in play e lo stop. Possiamo andare a ricercare quelle che sono le nostre, la registrazione, perché quindi possiamo andare a ricercare un determinato ora o un determinato giorno della settimana in cui vogliamo ascoltare la registrazione effettuata. E in questo riquadro troveremo tutte le indicazioni utili alla registrazione. In questo caso potrà registrare ancora per altri 4 giorni, 10 ore, 6 minuti e 35 secondi. Come potete vedere poi abbiamo il tastino con gli strumenti. Ed ecco qua. Qui avremo una serie di impostazioni da inserire appunto nel microregistratore che precedentemente abbiamo collegato alla porta USB del nostro PC. Quindi grazie a questa schermata possiamo andare a configurare quelle che sono le impostazioni migliori per il nostro, per il lavoro che dobbiamo andare ad effettuare. Quindi abbiamo qui le varie campionature che ci consentono delle giornate, questo fino a 35 giorni di utilizzo, questo fino a 17 giorni, questo fino a 12 giorni e così via. Poi abbiamo l'audio attivazione. Quindi questo è il vor o vas, è quello che consente la registrazione con attivazione vocale. Quindi non appena c'è audio lui si abilita e si disabilita con il cessare dello stesso. Quindi come vedete è semplice. In questo caso è disabilitato, ma possiamo abilitare un determinato orario di inizio e un determinato orario di fine. Oppure possiamo determinare, cliccando sul secondo item, possiamo cliccare dall'inizio del giorno che vogliamo e alla fine nel giorno in cui cesseranno le registrazioni, compreso di ora. Oppure possiamo addirittura abilitare il lunedì accendilo a quest'ora e spegnilo a quest'ora, il mercoledì, faccio un esempio, accendilo a quest'ora e spegnilo a quest'ora, eccetera. Quindi come vedete è molto versatile. E quindi è configurabile in tutto e per tutto. Qui possiamo impostare una password che se eventualmente trovano il registratore non potranno mai capire né chi l'ha messo e nemmeno le registrazioni che stanno all'interno. Da qui possiamo abilitare e disabilitare il led e questo sono per il doppio clic o monoclick quando vogliamo aprire il software. Come vedete è molto semplice ed intuitivo. Chiaramente si tratta di un prodotto professionale e quindi come capirete bene la qualità audio è veramente eccellente. spyproject.com vi ringrazia e vi invito a seguire il canale. Ciao!